Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un tremendo lutto ha colpito il mondo del cinema. Oggi ci lascia un attore conosciuto in tutto il mondo. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. In queste ore tutti rileggono il suo ultimo post, in cui aveva scritto Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo perché la mia fede si sta rafforzando. Nel 1995 aveva ottenuto il suo primo ruolo in un film, aveva iniziato a lavorare sul set con il regista Quentin Tarantino, che lo volle in Django Uncained, accanto all'amico Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel Jackson interpretando il ruolo di Pudgy Ralph. È morto a 53 anni l'attore americano Keith Jefferson come è stato annunciato dalla sua gente al The Hollywood Reporter. L'attore era noto per aver recitato in diversi film di Quentin Tarantino o come c'era una volta, a Hollywood. Grazie per la visione, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.